Allora, siamo in conclusione di una lunga giornata, anzi meglio di un lungo weekend fine settimana con Attilio Cozzani, direttore tecnico sportivo e quanto si possa dire di questo evento. Direi che potete essere soddisfatti. Te lo dico quando arriveranno le ultime cinque barche, perché non sono ancora arrivate. Sì, soddisfatti, soddisfatissimi. Oggi mettere in mare 80 barche con la Spezia è stato un successo con tutti gli annessi e connessi degli eventi collaterali, che non sto a citare perché l'hanno già detto, in mille. Bellissimo evento, faticoso per me soprattutto, ma bellissimo. Sì, abbiamo sentito tra l'altro che i concorrenti stessi, soprattutto quelli della veleggiata, una volta tagliato il traguardo hanno ringraziato, hanno festeggiato, perché evidentemente per loro è stata un'occasione di uscire dal porto e passare una giornata in acqua, no? Sì, infatti è quello che io ormai da qualche anno, soprattutto post-covid, sto cercando di spingere, qua nel golfo, l'avvicinamento alla vela con le veleggiate FIV, che sono quelle che danno un impulso per poter partecipare. È stato accolto, oggi metà flotta era in veleggiata, 40 barche in veleggiata e 40 in regata. Quindi un bellissimo successo. Senti, Attilio, è vero però che le cose belle non si fanno mai da soli, no? Serve sempre l'aiuto di tante persone. Ne dobbiamo ringraziare? No, dobbiamo ringraziarle anche tanto, perché il successo di questo evento, diciamo, dipende in gran parte anche da loro, perché da noi si dice che senza l'Illeri non si lallera. Per cui io leggo, perché non voglio dimenticare nessuno, San Lorenzo è stato il nostro main sponsor, l'Official Partner è stata Banca Patil Monicella e i City Partner, a partire dai rimorchiatori riuniti Spezzini, che questa mattina hanno anche messo lo spettacolo con il rimorchiatore che sparava acqua, KNDS, la lince dell'Istituto di Vigilanza, Orizzonte Sistemi Navali, il terminal Spezia Carrara Cruise Terminal, Banca Sella, Autoligure e Garmin. E poi sponsor minori, che però non stiamo a citare, perché se no non finiamo più, ma grazie, 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 perché senza di loro veramente non ce l'avremmo fatta. Siamo d'accordo, sul territorio c'è bisogno di chi si impegna per fare le cose. Senti, ultime due informazioni per i nostri amici di Seili. Allora, una è nei prossimi giorni si troveranno le classifiche sul sito, no? Sì, sì, le classifiche si troveranno e sarà un lavoro, un altro lavoro, un'altra settimana di lavoro, perché spero di concludere entro mercoledì e giovedì, perché abbiamo classifiche combinate, timoniere donna, double-handed, abbiamo i vari raggruppamenti certificati ancora, qualcuno diretto in fila da elaborare, quindi sarà un lavoro faticoso, ma lo faremo e pubblicheremo tutto entro mercoledì, giovedì al più tardi, sul golfodepoeticup.it. E invece la grande festa finale con la premiazione? Allora, premiazione al circolo ufficiale della Marina Militare, perché anche la Marina Militare ci ha dato una grossa mano, anzi, insieme a lei voglio ringraziare pubblicamente la Guardia Costiera della Spezia, con la quale ci siamo interfacciati per i percorsi, perché sapete che Spezia è un porto complicato, e poi la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, perché hanno messo in acqua i loro mezzi per darci l'assistenza dovuta e le ringrazio veramente tanto. Bene, grazie Attilio. L'ultima, la pubblica assistenza di Lerici, perché con il loro gommone Papalfa 5353 hanno garantito anche una sicurezza dal punto di vista medico-sanitario, per cui non è successo niente, ma meglio prevenire. Assolutamente, in mare soprattutto. Noi ti ringraziamo Attilio e ci diamo appuntamento all'anno prossimo. Sì, vediamo se stesso periodo, se anticipiamo in primavera, sarà tutto da decidere, ma ci saremo. Grazie ancora e buon vento per il futuro. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti.